Ciao a tutti, siamo fuori dagli uffici comunali di Via Larga, siamo qui per la seconda volta, la prima, abbiamo passato qua la nottata per consegnare prima di tutti i documenti di presentazione della lista civica, questa volta invece ci torniamo per una segnalazione di un dipendente pubblico. C'è stata infatti segnalata, anche grazie foto, la presunta presenza di amianto nelle coibentazioni di alcune stanze e in alcune strutture di questo edificio. Abbiamo chiesto come gruppo consigliare la possibilità di avere l'accesso sia alle strutture esterne, quindi i cavetti dove si è trovato questa probabile presenza di amianto, che nei sotterrani, nell'archivio storico di Milano, questi archivi sconfinati con documenti dal 1700 in poi, dove le tubature molto probabilmente, e stanno facendo delle verifiche a riguardo, sono ancora in amianto e in alcuni casi molto danneggiati. La situazione quindi con poca aria e poco il circolo d'aria diventa molto pericolosa per i dipendenti. Negli scorsi anni ci sono stati dei decessi, ovviamente non collegabili direttamente, ma neanche scollegabili. Abbiamo chiesto se ci fossero state nel tempo delle verifiche per quanto riguarda la presenza di amianto e negli scorsi 4-5 mesi sono già state fatte queste verifiche. Il problema è che non sono mai stati pubblicati i risultati. I funzionari comunali sono stati molto gentili a mostrarci tutti gli ambienti di cui abbiamo richiesto accesso e sono stati anche disponibili a tenerci aggiornati appena verranno resi pubblici i documenti circa queste verifiche della presenza di amianto. Abbiamo anche chiesto di verificare i punti di queste analisi fatti negli scorsi mesi e nel caso di rieffettuare le analisi anche nei punti segnalati da noi quest'oggi. Ci è stata data piena disponibilità per questo e verremo aggiornati nelle prossime settimane. Continua la nostra battaglia per la segnalazione dei siti con presenza di amianto e invitiamo quindi ancora tutti voi a segnalarci situazioni che vi sembrano anomale. Provvederemo a segnalarli agli uffici comunali o a fare video inchieste come questa in futuro.